Ecco come guadagnar con YouTube utilizzando strumenti dell'intelligenza artificiale. Passo 1. Vai su vidiq.com per trovare i migliori argomenti e parole chiavi per il tuo canale. Passo 2. Chiedi a chat CPT di generare 50 idee e video sull'argomento. Passo 3. Utilizza i Level Lab per creare una voce realistica leggendolo scritto. Passo 4. Vai su invideo.io per creare un video completo con footage di alta qualità. Passo 5. Usa canva.com per creare una thumbnail accattivante. E infine chiedi a chat CPT di scrivere titolo e descrizione per il video. Pubblica questo video su YouTube quotidianamente per iniziare a guadagnare. Tutti i link sono nella descrizione. Se vuoi fare due soldi su YouTube, clicca tutto e inizia anche te.